Gesù apri il tuo cuore alla compassione verso di noi tu hai detto il figlio di Dio non giudica nessuno ma a compassione di tutti Signore ti chiediamo la compassione tutti abbiamo bisogno di essere compatiti oh Gesù certamente tu scendi in ciascuno di noi tu prendi tutte le mani miserie ma fa che noi comprendiamo che tu hai compassione di noi fa che noi entriamo nella tua compassione e gustiamo riceviamo da te la tua compassione e ti ringraziamo perché hai compassione di noi tu hai compassione di tutti gli uomini perché sei l'amore tu hai compassione soprattutto dei piccoli degli emarginati di coloro che soffrono degli appestati dei vessati degli indemoniati tu hai compassione di tutti perché hai preso su di te tutte le umane miserie tu l'uomo senza peccato oh Gesù questa sera facci entrare nella tua compassione perché noi sentiamo questa tua compassione per noi povere creature e sentiamo anche noi di essere partecipi della tua compassione nei riguardi dei nostri fratelli oh Gesù fa che gustiamo la tua compassione nei nostri riguardi e ti ringraziamo fa che noi partecipiamo alla compassione verso i nostri fratelli e viviamo prendiamo sulle nostre spalle i mali dei nostri fratelli intercediamo per loro Gesù siamo qui davanti a te e ti adoriamo oh Dio compassionevole che usi misericordia verso tutti e che vuoi che nessuno parisca di quelli che il Padre ti ha dato gloria e gloria a te Signore grazie